Ciao a tutti, mi chiamo Roberto Mino e sono un ex allievo IPSMAT. Ho iniziato questo percorso di studi con l'intento di andare ad affrontare quelle che sono le materie teorico-pratiche previste dal corso di manutenzione e assistenza tecnica, come manutenzione, elettrotecnica, elettronica e meccanica. La scuola inoltre offre la possibilità dell'utilizzo dei laboratori, che è una cosa ottima dal punto di vista pratico perché si vanno ad applicare quelli che sono i concetti teorici e quindi quelli che serviranno un giorno inseriti nell'ambito lavorativo. Inoltre sono molto contento della mia scelta, sia io che i miei compagni di classe, perché tutti, escluso nessuno, siamo riusciti a trovare lavoro in tempo zero, essendo stati contattati da moltissime aziende del territorio che operano nell'ambito del settore metalmeccanico.